Sono riprese stamattina le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino da domenica 24 gennaio. Oggi, nelle attività di ricerca, sono coinvolte le squadre di terra del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e dell'Esercito, salite con gli sci nell'area di Valle Maie Lame e Valle Genzana. A causa delle forti raffiche di vento e della nebbia che rende la visibilità assai scarsa, gli elicotteri non sono infatti riusciti a decollare dal campo sportivo di Massadalbe. C'è molto vento, nebbia che si addensa a causa dell'umidità e fa molto freddo. Quindi, commenta Fabio Manzocchi, capo stazione del Soccorso Alpino di Avezzano, gli elicotteri non sono riusciti a decollare e i soccorritori sono dovuti salire con gli sci. La neve purtroppo non accenna a sciogliersi in quota a Valle Maie Lame, è un frigorifero e resta uno strato di ghiaccio importante su cui stiamo concentrando le ricerche, anche grazie all'impiego di Sonara e Georadara, mentre nella parte a sud della valle stiamo bonificando, creando un percorso per salire agevolmente, conclude con le squadre di terra.